Corsa a tre per la leadership del partito laborista britannico. Owen Smith, 45 anni, ex ministro ombra del lavoro, annuncia la sua candidatura. Una mossa che spiazza Angela Eagle e i ribelli anti-Corbyn che puntavano a formare un fronte unico contro il segretario sfiduciato dai deputati Labour dopo il referendum sulla Brexit. Corbyn ha fatto un buon lavoro sotto certi aspetti, ma non è l'uomo che può guidare i Labour alle prossime elezioni e vincerle. I lavoratori di questo paese non possono permettersi un partito laborista che non rappresenta un'opposizione forte né una valida alternativa di governo. Questo è quello che voglio fornire, la leadership di cui abbiamo bisogno. Martedì il comitato esecutivo dei Labour ha ammesso la candidatura automatica di Jeremy Corbyn di fronte agli iscritti. L'attuale leader, espressione l'ala sinistra del partito, eletto nel settembre scorso con un consenso record, appare nettamente in testa.